Ciao a tutti ragazzi sono sempre io il nostro amico Federic95ita e oggi ragazzi inizio questo video subito così dicendovi subito una cosa molto importante mi raccomando seguite tutto questo video perché ragazzi è aperta la raffle per i 7000 iscritti dirò moltissime cose importanti in questo video ragazzi e se sarete attenti alle mie spiegazioni vi potrete aggiudicare delle carte veramente fenomenali che vedrete apparire qui tra poco e niente ragazzi allora io vi invito veramente a seguire tutto tutto il video perché è veramente molto importante seguire queste regole per partecipare ragazzi come ho già detto dirò molte cose importanti che se le seguirete veramente e starete attenti a giudicarsi le carte sarà una passeggiata o meglio se avete fortuna però comunque vi darò dei consigli per naturalmente essere iscritti più volte a questa raffle e per naturalmente avere più probabilità di vittoria allora ragazzi inizio subito dicendo che questa raffle finirà come avete già capito i 7000 iscritti sono a 6500 non mi interessa voglio fare questa mini raffle che comunque però attenzione ha dei premi veramente fenomenali ripeto ve li faccio vedere dopo e niente ragazzi mi raccomando state attenti a queste regole e allora partendo subito dalla prima regola che è semplicissima basta mettere un bel pollice in su a questo video non ci vuole nulla e una regola è andata sono 4 regole ragazzi 4 regole semplicissime la prima è mettere mi piace la seconda ragazzi è iscriversi a questo canale molti di voi saranno già sicuramente iscritti quindi anche questa è una passeggiata seconda regola appunto iscriversi al canale terza regola ragazzi è iscriversi al sito web regola veramente molto 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 importante perché ragazzi adesso vi spiego bene come si fa allora ragazzi basta andare sul mio sito web che troverete qua sotto nell'info box e vi lascio anche il link qua in modo che potete copiarlo e andarci direttamente ma il link lo trovate in descrizione quindi semplicissimo andate là e vi registrate con lo stesso nome che avete su youtube se tu su youtube ti chiami pincopallino sul sito web ti registri pincopallino naturalmente ragazzi faccio questa cosa perché devo vedere tutti quelli che si iscrivono al sito web perché se tu nei commenti scrivi partecipo e ti chiami pincopallino sul sito web io dato che sono admin riuscirò a vedere tu che ti sei iscritto lo stesso giorno tale giorno e ti chiami pincopallino in modo ragazzi che così è tutto più facile e riesco a capire chi si iscrive e chi no perché ricordi ragazzi io controllo se non vedo il nome di quella persona sul sito web non parteciperà alla raffle questa raffle molto severa ragazzi perché i premi sono veramente molto importanti che sono carte di valore che ripeto li faccio vedere dopo quarta regola ragazzi che comunque la dovete fare per capire se partecipare o no è commentare questo video commentate scrivendo mi sono iscritto al sito web mi chiamo e il vostro nome partecipo tutto qui ragazzi le regole sono semplicissime raffle veramente piccola nel senso di iscritti manca veramente poco arrivare ai 7000 iscritti ma grande di premi allora io penso di avervi detto tutto invece no non vi ho detto tutto vi dico per partecipare più volte a questa raffle allora per partecipare più volte ragazzi basta che voi invitate sul sito web tizio e caio praticamente se tu che ti chiami pincopallino oggi ragazzi ho fissato pincopallino ti chiami pincopallino inviti che ne so tre persone al sito web e quelle tre persone si iscrivono al sito web tu hai tre iscrizioni in più quindi ci avete quattro iscrizioni la tua e le tre di quelli là che si sono iscritti quindi ragazzi è veramente semplicissimo più persone invitate più avrete possibilità di vincere le carte che vi farò vedere a breve perché ragazzi più che ne so invitate anche 20 persone se invitate 20 persone avete 20 iscrizioni in più quindi ragazzi invitate più gente possibile per avere l'opportunità di vincere queste carte niente io ho detto tutto mi raccomando fate esattamente quello che ho detto ripeto controllo chi si iscrive al sito web quindi no furbetti comunque molti di voi già si sono iscritti quindi per voi bastate che mettete mi piace ed è a posto ecco comunque ripeto link in descrizione link qua sopra link qua sotto ovunque ragazzi allora ho detto un sacco di cose finora niente la cosa più importante fatevi vedere i premi i premi ragazzi sono questi qua guardate quanto sono belli adesso ve li mostro anche da vicino abbiamo come primo premio guardate quanto è bello ragazzi un bellissimo Kangaskhan Nex di X e Y ragazzi Wild Blades praticamente appena uscita bellissima vi potrete portare a casa questo bellissimo premio ma non è finito vi potrete portare a casa anche questo bellissimo Evental X ragazzi questo sempre in giapponese prima edizione di X e Y giapponese questo è Y giapponese guardate quanto è bello epico e come ultima carta ma non inferiore è un bellissimo Mewtwo X di X Battle Books quindi ragazzi gli ultimi set usciti praticamente gli ultimi set usciti di Trading Card Game ecco vi ho fatto vedere i premi ve li lascio lo stesso qua sullo sfondo in modo che li potete ancora vedere per qualche secondo quindi ragazzi io vi invito a mettere tantissimi pollici in su a questo video quindi a iscrivervi in tantissimi perché naturalmente in questo video ci avrà 200 pollici in su 200 iscritti naturale quindi ragazzi partecipate in tantissimi iscrivetevi al sito web e noi ci vediamo all'istrazione che ripeto ci sarà ai 7000 iscritti per qualsiasi domanda informazioni su la raffle mi raccomando scrivetemi in privato o qua sotto nei commenti vi risponderò il prima possibile quindi ragazzi per questa raffle è tutto e niente noi ci vediamo all'istrazione bella ragazzi grazie grazie grazie